Tra quelle minacciate o ipotizzate, le candidature a sindaco di Messina fino ad un mese fa sembravano essere addirittura 12, ma a poco più di 40 giorni dal voto i partiti e i movimenti in molti casi hanno deciso di non farsi del male, ritirando le proprie proposte e rinviando i regolamenti riconti al successivo turno del ballottaggio, praticamente certo. Il risultato è che gli aspiranti sindaco adesso dovrebbero essere sette. Per il centro-sinistra il nome unico è Felice Calabrò, i potenziali avversari interni allo schieramento, i democratici riformisti e i rappresentanti del megafono del presidente della regione Rosario Crocetta hanno deciso di non mettere in campo altre proposte. Per quanto riguarda il centro-destra è destinata a rientrare la candidatura di Pippo Esgro, che ha invitato lo schieramento all'unità attorno alla proposta PDL Vincenzo Garofalo, anche se in nuova alleanza sembra non voler rinunciare alla candidatura di Gianfranco Scoglio. Nessun candidato sindaco per il movimento Tutti pazzi per Messina e per Fratelli d'Italia. Fuori dagli schieramenti Sergio Indedicato, il pacifista Renato Accorinti, il leader di Reset Alessandro Tinaglia, la rappresentante del Movimento 5 Stelle Maria Cristina Saia, il numero dei candidati rimane comunque elevato, difficile evitare il secondo turno.